Innovare e dialogare con la tradizione nel mondo della musica, dell'opera e della danza è la missione della Fondazione Haydn. Per noi questo 2023 è un anno importante e ci mettiamo tutte le energie. Apriamo un cantiere culturale fatto di idee, eventi e collaborazioni con partner del mondo della ricerca e dell'innovazione. Per superare le distanze e barriere costruiamo un archivio digitale aperto, ricco di contenuti multimediali, esecuzioni musicali e materiali per le scuole. Un cantiere culturale fatto di azioni per diffondere la musica in ogni parte del nostro territorio. Ed è con la realtà virtuale che la nostra orchestra arriverà nei luoghi più lontani. Un'attività culturale che le scuole per esperimentare. Come percorsi sonori immersivi nella natura e appuntamenti musicali inediti. Soprò sull'interno come all'interno. Ma anche fatto di momenti per ascoltare le necessità del nostro pubblico. Un cantiere culturale per stare a tempo. Perché ci piace pensare che la cultura sia un lavoro in progress per costruire il futuro.